Io sono Fabrizio Grossi e sono il responsabile commerciale di aziende agricole Le Regge di Greven Chianti. Noi siamo a circa 500 metri dalla piazza di Greven Chianti, ma uno dei territori più vocati, una zona ottima per coltivare il Sangiovese e quindi per produrre il Chianti Classico. La soddisfazione più grande del mio lavoro è quella di riuscire a far apprezzare il nostro prodotto, la nostra filosofia e tutto quello che c'è dietro e dentro a questa bottiglia. Il nostro vino più rappresentativo e quindi anche il mio preferito è il Chianti Classico. L'annata, un'ottima bevibilità, un'ottima freschezza, ma anche tanta componente aromatica, un vino eccellente. Da quando sono entrato nel Chianti Classico ho subito notato che il consorzio è un valore aggiunto, è quello che sta dietro tutti noi, è quello che ci spinge a fare meglio, a creare un'ottima concorrenza e ci aiuta a dare valore al nostro prodotto sia in Italia che all'estero e che ci sostiene poi quando dobbiamo fare qualsiasi tipo di ricerca, di sviluppo, di lavoro. Quindi è quello che ci vuole.